benedizione degli oggetti sacri nel nome del padre del figlio e dello spirito santo grazie misericordia e pace del padre figlio e spirito santo siano con tutti voi con il tuo spirito ascoltiamo il vangelo secondo giovani come il padre ha amato me così anch'io ha amato voi rimanete nel mio amore se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del padre mio e rimango nel suo amore questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati signore dio che fai risplendere la tua chiesa con le virtù e le opere dei santi guarda i tuoi fedeli che desiderano servirsi di questi segni di devozione nel ricordo in onore della beata vergine maria fa che dispongano di ciò che è necessario nella vita presente ed erendo con amore ai tuoi precetti procedano sicuri verso la vita immortale per cristo nostro signore vi benedica dio onipotente padre figlio e spirito santo amen grazie a tutti 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 grazie a tutti